Almeno una trentina di persone sono morte e altre decine sono rimaste ferite in seguito all'esplosione di nuoto bomba condotta questa mattina da un attentatore suicida davanti all'ingresso del porto di Mogadiscio. L'attacco è stato rivendicato dagli Al-Shabaab, l'organizzazione integralista che ha preso sempre più potere dopo la caduta del dittatore Siad Barre nel 1991. Dopo l'esplosione c'è stato anche un pesante scontro a fuoco, nei racconti dei testimoni oculari l'orrore di quegli attimi. Ero stato al porto, mi sono seduto di fronte a un negozio quando c'è stata un'enorme esplosione vicino alla stazione di polizia. Sono scioccato e mi sono sdraiato sul terreno, sono rimasto ferito leggermente alla testa. L'esplosione ha preso di mira l'edificio dove assiede una stazione di polizia e gli uffici della Dogana, ma gran parte delle vittime sono impiegati e passanti. Gli Al-Shabaab continuano a controllare vaste zone rurali e impongono alle popolazioni locali una rigida interpretazione della sharia e da qui partono per spettacolari quanto sanguinosi attentati sia a Mogadiscio sia dal 2013, anche nel vicino Kenya.